Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel nostro spazio, nella nostra chiacchierata del sabato, sabato primo pomeriggio. La settimana scorsa abbiamo parlato di Goku Ultraistinto e di Gohan Beast, questa settimana cambiamo prodotto, non parliamo più di Dragon Ball ma parleremo di Boruto, Boruto che è uno dei manga o degli anime più discussi degli ultimi anni, ha un'eredità molto pesante che è quella di Naruto, però secondo me è giusto fare un video e cercare di fare un po' di chiarezza rispetto a quelli che sono i punti di forza, i punti magari di debolezza di questo manga, ma soprattutto rispondere alla domanda che ancora oggi nonostante il manga è stato preso in mano a Kishimoto e quindi un po' l'opinione generale si è cambiata, ma c'è ancora nell'aria questa cosa di dire Boruto fa schifo. Rispondiamo subito alla prima domanda, Boruto fa schifo? Assolutamente no, per me Boruto è un'ottima opera, io la sto leggendo, sono in pari col manga e devo dire che mi sta piacendo veramente veramente molto. Ha probabilmente un problema per quanto riguarda l'anime, vi specifico che io non l'ho visto, ma da quello che ho letto e da quello che sento, il problema grosso dell'anime è che è pieno a zeppo di filler, più anche di Naruto, però ragazzi non possiamo giudicare un'opera semplicemente solo se guardiamo l'anime, cioè se sappiamo che il manga è in verità di valore, quello che vi dico io è cercate di spostarvi sul cartaceo e di capire se effettivamente sia pessimo come l'anime. Premessa, come ho detto prima, io l'anime non l'ho visto, non posso giudicare, ma ci sono parecchie recensioni negative da questo punto di vista. Altra cosa che ci tengo a specificare è che sì, Boruto è un sequel di Naruto, assolutamente, ma io credo che neanche Kishimoto abbia mai avuto l'ambizione di creare un prodotto dello stesso livello di Naruto, mi spiego meglio. Personalmente ritengo che Naruto nel suo genere sia un'opera che veramente rasenta la perfezione. Momenti bassi in Naruto, io parlo sempre del manga, perché anche di Naruto ho letto solo il manga, ho visto un bel po' di puntate dell'anime, ma ho letto il manga tendenzialmente, e momenti bassi che quasi non ce ne sono. A memoria forse solo l'avvento di Kaguya, quindi la fase finale di Naruto, che secondo me poteva chiudersi con Madara, però anche lì sappiamo che Kaguya poi adesso è tornata utile per tutto il discorso degli Otsutsuki e quello che sta succedendo è involuto senza volervi spoilerare nulla. Detto questo, come vi dicevo, quindi l'opera di per sé è veramente quasi perfetta, cioè personaggi scritti benissimo, battaglie molto belle, ottimi disegni, storia generale che è sviluppata molto molto bene. I punti di forza di Naruto sono molteplici, backstory fantastiche, che sono forse una delle robe più assurde che c'è in Naruto, perché qualsiasi personaggio tu prendi ha una bellissima backstory. Quindi era difficile riproporre tutti gli stessi concetti, prenderli e rimettere l'imboruto, perché... perché... perché di sì, perché ci sta, cioè tendenzialmente i sequel quasi mai sono più belli dell'opera iniziale. Già in generale nel mondo parliamo di film, di telefilm, di anime, quindi... anche dei libri. Quindi è complesso già il discorso. Poi mettiamoci che all'inizio Kishimoto era solo supervisore, però alla fine di tutto questo discorso, se voi leggete, io credo che se uno è un fan di Naruto, si approccia con la giusta mentalità Boruto, quindi non come ho fatto io, ma io sono il primo che, appena finito Naruto, mi ero messo a leggere Boruto e... ma con il preconcetto ero partito col fatto di dire sì, farà schifo, perché lo dicono tutti, quindi ci sarà un fondo di verità. Mi sono letto i primi due capitoli, credo, forse tre, e l'avevo lasciato lì. Ho detto no, non mi piace, non mi piace la storia, è noiosa, i disegni sono brutti, Sasuke è inguardabile, un sacco di robe, un sacco di critiche, che però erano critiche fu frutto, in gran parte, di un approccio sbagliato che avevo avuto all'opera. Tant'è vero che dopo un mesetto mi son detto no, non si può far così, cioè devo almeno leggere un po' di Boruto prima di esprimere un giudizio, non sarebbe corretto altrimenti. E allora mi son detto, va, leggi i primi dieci, dodici numeri almeno, e poi vedi com'è. E leggendo i primi numeri, piano piano sono entrato nel giusto mood con Boruto, mi sono nuovamente riambientato in questa nuova Konoha, con i nuovi personaggi, alcuni dei vecchi, quindi da questo punto di vista è molto bello ritrovare Naruto, ritrovare Sasuke, ritrovare Ino, Sakura, Shikamaru soprattutto, un sacco di bei personaggi. E leggendo, leggendo, alla fine ho iniziato a carburare, e l'opera devo dire che in realtà è molto molto bella. La pecca forse più grande è che l'inizio è una grande introduzione, cioè quando il manga viene preso in mano da Kishimoto, negli ultimi numeri, si vede l'evoluzione, la storia entra nel vivo, quindi l'introduzione è un po' lunga. Sono più di oltre dieci numeri che fanno quasi la introduzione a quella che è poi la parte centrale del manga, che carbura in una maniera eccezionale, quindi vediamo una crescita esponenziale della scrittura e anche di evoluzione di personaggi come Kawaki, Boruto. Lo stesso Naruto, Sasuke fanno veramente un passo in avanti e danno un ritmo differente al manga. E niente, quindi all'inizio mi ero preso male, poi mi sono dato una tempistica, mi sono detto no, bisogna farsi un'opinione in una modalità un po' più completa, quindi ho letto Boruto e adesso sono in pari con le scan italiane, perché sì, perché merita, perché secondo me l'opera è molto bella, io non vedo l'ora che uscirà il nuovo capitolo, ieri ho letto l'ultimo che è uscito, vi dico solo che c'è uno scambio tra Mitsuki e Boruto a livello di testo molto molto bello, molto bello, intenso, cioè questa cosa che c'era già in Naruto è rimasta in Boruto, soprattutto quando l'ha ripreso in mano Kishimoto, cioè il rapporto fra i personaggi, fra i vari abitanti all'interno dei villaggi, ed è molto bella, è molto bella e ricorda, ricorda Naruto e questo mi fa estremamente piacere. Allora, siccome siamo 6 minuti e 26, doveva essere un video di 3 minuti, in realtà non ho detto molto, però siccome Naruto è un'opera a cui sono molto legato, e Boruto è un'opera a cui mi sto legando molto anche per tutta la cattiva informazione che si era fatta sul prodotto, trovavo fosse giusto fare un video a riguardo e soprattutto lasciare uno spazio nei commenti, per poi creare un'utile discussione, arricchirla con quelle che sono le vostre idee, con chi sta leggendo il manga, chi ha visto l'anime o sta guardando l'anime, se vuol dirmi la sua, io so che è molto criticato, come ho detto all'inizio, ci sta, cioè se è pieno zeppo di filler, però ecco ragazzi, quello che vi dico io, come ho detto prima, è se l'anime non va bene, se l'anime non è bello, e sapete che è pieno di filler, provate a dare un'occasione al manga, perché veramente è un'altra roba, il manga è veramente bello, è veramente bello e gli ultimi numeri sono addirittura, non dico eccezionali, ma quasi, ci hanno delle robe bellissime. Quindi, come sempre, vorrei sapere la vostra nei commenti, e niente, questo dovrebbe essere appunto un video per spezzare una lancia a favore di Boruto, io credo che se ne sia bisogno, credo che sempre più gente nel web debba combattere quella che è stata un'informazione fatta male, o parzialmente fatta male, perché se all'inizio poteva essere accettabile, io devo dire che adesso sono usciti più di 20 manga di Boruto, è arrivato il momento di dire un po' la verità, di dire le cose come stanno, può non piacere, perché per l'amor del cielo, qualsiasi prodotto può non piacere, ma il fatto che non piaccia non deve essere preso per dire che è una roba fa schifo, il fatto che ci si aspetti ingiustamente un altro Naruto in fotocopia, perché non può essere, come avevo detto, perché nessun sequel è mai come il film precedente, non può essere una scusa utilizzata per dire che il prodotto non è valido, per fargli campagna contro, io ragazzi ve lo dico, sono convinto che Boruto potrebbe essere la sparo, e la dico, ma a parte che la sparo, in realtà ci sono già i dati che lo attestano, Boruto potrebbe essere uno dei nuovi big tree di questo nuovo decennio, quindi i big tree originali che sappiamo sono Naruto, Bleach e One Piece, secondo me nei nuovi big tree Boruto ci entrerà, anche perché se si guardano le scan, i siti dove si può leggere i manga, soprattutto in Giappone, Boruto per qualche settimana se non erro ha superato anche One Piece come numero di letture, e in ogni caso è iperletto, quindi è arrivato il momento di dire stop, basta, costa crociata contro Boruto, Boruto può dicere o non piacere, ma resta un'opera ottima, fruibile, che tutti i fan di Naruto dovrebbero leggere, dargli un'opportunità, perché secondo me merita. Chiudo qui, aspetto come sempre la vostra nei commenti, il video è stato anche troppo lungo, vi ringrazio per l'attenzione, noi ci vediamo sabato prossimo col prossimo video, non so ancora cosa discuteremo, ragioniamoci su in settimana, o almeno scrivetemelo nei commenti, ciao raga!